Simone Bettati, anche tu come Rossi, goleadoria di giornata, è un'arma del bra, provare a sfruttare le palle ferme e con gli ottimi tiratori di punizioni che avete, ci sono anche dei bravi saltatori. Sì, oggi siamo stati noi quelli che abbiamo fatto muovere la rete, mi fa piacere personalmente, però in senso generale sono contento perché la vittoria di oggi, oltre a dare continuità, dà un valore diverso al pareggio di Borgaro, è stata una partita come sappiamo non ottimale sotto alcuni punti di vista, questo ci permette di avvicinarci a dove vogliamo passare il campionato, ci permette di continuare a far parlare di noi e quindi direi che individualmente e collettivamente oggi è stata una buona giornata, nonostante la rete si sia mossa anche dalla nostra parte, quindi non è una giornata perfetta, però bene così. Cosa pensate da difensori del modulo con quattro giocatori offensivi, nello specifico Gasbaroni, Lazzaro, Beltrame e Montante, schierati per la prima volta oggi tutti insieme da Daidola? Io penso che i giocatori così devi farli giocare, poi madre natura ha dato a noi un certo tipo di caratteristica, noi proviamo per loro, se loro ci fanno gole ci fanno vincere, possono giocare in 6, 6, 8. Si è vista oggi una partita di personalità del Bra? Sì, abbiamo sofferto, siamo stati capaci a soffrire che non è cosa da poco, siamo stati fortunati, bisogna dirlo perché i primi 10 minuti Luca ha messo due pezze importanti, però sì, siamo stati bravi a soffrire, ci siamo difesi bene per tutto il resto della partita e quindi è avuto una prestazione positiva.